Lorenzo Seneci, responsabile integrazione professionale e product manager Maxel in Audio Group Finalmente il nostro primo ISE con Maxel, già partiamo con tante novità rispetto a quella che è la line up che abbiamo attualmente a catalogo, anzitutto abbiamo l'anteprima della serie J1 vale a dire due proiettori da 4000 lumen, laser di dimensioni estremamente contenute abbiamo tutte e due le macchine, sono i 16 decimi, VXGA e VUXGA le macchine sono in pre-order, stupiranno sicuramente per quello che riguarda le prestazioni e per quello che riguarda le dimensioni abbiamo un layout molto interessante allo stand dove possiamo vedere la versione nuova del progettore blending tool che ora raggiunge il numero 4 implementando anche la funzione cornering qui allo stand Maxel a ISE possiamo vedere 4 8000 ansilumen laser posizionati in stacking, blending e warping un'altra novità decisamente interessante con la quale avremo a che fare più o meno a partire dall'estate sono due pellicole da videoproiezione, una opatizzante e una da installazione classica che si differenziano rispetto a quanto proposto attualmente sul mercato per l'estrema semplicità di installazione Laptor Capture System, già presentato anche questo durante il roadshow un'apparecchiatura che permette di fare recording, streaming e condivisione per quello che riguarda lezioni, medicale, applicazioni universitarie tutto è presente allo stand, finalmente possiamo portare i nostri clienti allo stand Maxel a fare vedere quanto sta arrivando di nuovo, quanto c'è in roadmap siamo sicuri che andando avanti con l'anno sapremo stupire la clientela Italia che già si sta affezionando al nostro marchio, porteremo sicuramente delle novità che faranno molto piacere ai nostri installatori Grazie mille